signore e signori fra qualche minuto un paio di minuti inizierà la gara del campionato seconda fase del campionato provinciale categoria allievi under 17 è un big match tra la virtus castellfrentano e il casal bordino ecco c'è l'entrata in campo il direttore di gara signor di tonto della sezione aia di lanciano casal bordino gioca con la maglia rossonera c'è la scelta del campo il direttore di gara va a controllare la rete forza pitbull forza ragazzi in bocca al lupo ok Grazie. Grazie.